Ciao bambini, oggi è una bellissima giornata, splende il sole e ci piacerebbe tanto essere fuori tutti insieme. Ma non possiamo, lo sapete vero? Bene, ma allora come possiamo aiutarci con lo yoga? Come possiamo aiutarci a respirare meglio? È con la nostra respirazione. Quindi vi potete sedere su una sedia oppure sul vostro materassino in tranquillità. Ma sapete che la respirazione vi può anche calmare, vero? Ma oggi lo faremo per aiutare i nostri polmoni a stare meglio. Bene, pronti? Ci sediamo e sentiamo l'aria che entra e che esce dal naso. Quando l'aria entra mi sento riempire come un palloncino, mentre quando l'aria esce mi sento svuotare. Ritorno bello, pulito. Ed ora, pronti ad una nuova cosa? Inspiro, sento l'aria che mi pizzica nel naso e quando espiro pronuncio una bella A. Così. Insegnatelo anche ai vostri fratellini, anche alla mamma e al papà. E vedrete, dai, che staremo meglio. Aiutiamoci, aiutiamo i nostri polmoni a stare meglio. Vi bacio a tutti, vi mando un grande abbraccio e un bacio. E ci rivedremo prestissimo. Aiutiamoci ad aiutare anche gli altri.